A Natale si sta in famiglia. Buongiorno, amore. Ci sono tutti. Bratellone. Ma proprio tutti. Questa bella famiglia che resti sempre unita. L'atmosfera è perfetta. Se non fosse che... Questo bambino non va bene. Ne voglio un altro. Tutti recitano un copione. Nome, leone, odia, i fast food, gli autobus, i barbieri che parlano, le marmellate confezionate, il burro. Secondo voi perché lo fa? Si sentirà solo? Comunque se si sente solo non paga una compagnia di attori. Io vi voglio concentrati per 24 ore. Deve essere buona la prima, sempre. Se non vediamo una lira, daglie. Daglie! Mi ha baciato. Carmen, ma sei un'attrice. Cazzo, sei mio marito, ti dovrebbe scocciare. Come sto? Sole. Ti stai mollando un po' troppo, confortunato. Ah, che dovevo fare? La coppia stanca che non scopa più? Fare l'amante è difficile. Alicia passerà il Natale con noi. La sua sembra proprio la famiglia perfetta. La famiglia perfetta non esiste. Non possiamo avere un ospite a cena senza che tu ci vuoi andare a letto. Fanno tutti così. Tutti. Per me recitare non è finzione. È la vita. Io non ci so stare da solo. All'inizio è difficile, poi l'abitui. Tu ti sei abituato? Credevo di sì. Aspettami io, papà. Vado a prendere l'acqua. Quanto cazzo sta al padre di questo?